Terza edizione per il Festival Città della Jazz, articolato in quattro serate, ma con la prima, giovedì 31 agosto, quale prologo della manifestazione che concentrerà la gran parte degli spettacoli il 14, 15 e 16 settembre con doppi concerti serali, oltre all'animazione musicale pomeridiana. Artisti jazz nazionali come Enrico Rava, Mauro Tolini, Max Iona, Teneri Precaso e Michele Polga, ma pure brasiliani, Roda Docareca e Bloco Intestinao. Apertura venerdì in piazza Pierobon con il trombonista Mauro Tolini e il trombonista Enrico Rava. Sebbene Enrico sia uno degli artisti, forse il jazzista più famoso nel mondo per quanto riguarda gli italiani, e potrebbe suonare tutte le sere, il fatto che alla sua età, ha compiuto da poco gli anni, 84, abbia scelto di venire, di onorare Cittadella con la sua presenza, è una cosa molto importante per noi, che in qualche modo va a confermare la crescita del nostro festival. Spieghiamo anche un po' le cornici di questi concerti, dove si svolgeranno. Il primo concerto del 31 agosto si farà nella piazza principale, piazza Pierobon, che è molto bella, e poi invece tutti gli altri concerti si faranno, ce ne sono alcuni itineranti che girano in tutto il territorio cittadale, per il centro di Cittadella, e poi c'è il jazz arena, che è in campo della Marta, che è strabitosa. Il 14, 15 e 16 di settembre avranno concerti doppi ogni sera, un concerto alle 20 e 30 in campo della Marta e a seguire il secondo concerto alle 22, sempre in campo della Marta, che per l'occasione viene definita jazz arena. Sono spettacoli previsti all'aperto e in posti bellissimi, ma c'è anche il piano B cosiddetto. Fortunatamente sì, c'è il piano B, che è il palaocchi di Cittadella, qualora dovesse piovere, ma non pioverà, qualora dovesse piovere, abbiamo il piano B, quindi abbiamo il palaocchi, che è una tensione struttura che ha la possibilità di avere più di 400 posti a sedere.